e nella prima di Dante nella sua casa il nostro allenatore Avel Fondarelli Dantino esce i Mizzoni New Entry sono 4 praticamente le New Entry quest'anno del Pressano una è proprio a Temma Mudà che dopo solamente 33 secondi piazza la prima rete del match a Temma Mudà col numero 34 proviene dal Sassari procede lentamente il Pressano lo scambio come nella prima azione ancora Dantino per Fri che prova fa la finta va al tiro poi in realtà il solito a Temma Mudà su assist proprio di Hamza Fri che si era alzato ha fintato e poi l'ha scaricata al connazione c'è Loizos che si riprende allora la sua posizione tra i pali occhio allora a Temma Mudà si rivede a Temma Mudà si rivede anche il gol 10-14 occhio a Ceccarini 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 affronta tutti poi viene commesso fallo c'è Mizzoni che esce fuori ancora Dantino atterrato la prende Francesco Rossi si continua a far circolare il pallone persiste il giro palare del Pressano si alza il braccio del passivo a Mudà è la bomba del Pari 19-19 e si arrabbia Berlegui con De La Santa cerca di interdire proprio la manovra tra i terzini del Pressano si muove molto dinamico il team giallonero occhio ad Amudà che trova la rete anche entrando tra primo e secondo 22-19 più 3 Amudà frai si muove Mizzoni però Amudà sceglie la via della fai da te fa da sé e realizza il 23-22 è stata una trattenuta evidente su casa che si lamenta hanno perso un po' il filo della conduzione i direttori di gara poi Dantino si becca una sperlata da Berleto probabilmente quando era già atterrato in area ci sembrava che avesse saltato comunque con i piedi fuori poi Moser atterrato questa volta è stato spostato arriva la sospensione a di a a a a a a Grazie a tutti